Bentornati con qui Europa e voi Friuli e oggi ci troviamo con degli ospiti molto speciali da una terra che per i più di noi risulterà molto esotica ovvero l'Islanda e vi presento Lucia Odorico e Davide Melisand, benvenuti! Ciao! Grazie mille! Ciao! Vi chiedo quella cosa che vi chiederanno sicuramente tutti perché l'Islanda e com'è l'Islanda? Davide è venuto qui ormai 13 anni fa la prima volta sì ho fatto il servizio civile sai quello europeo ho finito l'università queste cose qua e poi per qualche concomitanza particolare non mi ricordo esattamente com'è andata comunque sono finito qua senza aver scelto nulla e poi da cosa è nata cosa l'Islanda 12 anni fa non era come adesso ben conosciuta a livello di luoghi di fotografie di immagini era per noi era un incognita totale non siamo arrivati con con un'idea in testa e poi ci ha stupito tantissimo perché è un paese intanto paesagisticamente unico veramente al mondo stupendo e anche a livello di vita di tempistiche la quiete la pace la semplicità delle cose siamo stati attrati sia dal posto in sé della sua isolamento della sua bellezza sia dalla semplicità della della vita dalla praticità della vita diciamo così avete anche comunque colto appieno il fatto che l'Islanda sta diventando un posto sempre più conosciuto giusto certo certo quando siamo arrivati la prima volta non c'era turismo di nessun ticcio c'era un turismo estremamente limitato quasi elitario per i grandi avventurieri gli amanti del appunto del dell'ignoto sai andare in giro con queste macchinette su queste stradine di sassi il vuoto intorno a te adesso è molto diverso soprattutto la la parte dove viviamo noi che è il sud dell'Islanda che è quello più più popolare più ricco di turismo e ricco di attrazioni appunto che richiamano il turismo è cambiato radicalmente sicuramente ci sono molte più strutture recettive moltissimo più turismo è diventato inclusa la vostra sì come la nostra per esempio che si chiama questo che offrite è il paradise cave hostel and guest house ed è una vecchia scuola molto interessante perché è una vecchia scuola islandese che è stata in uso per 50 anni più o meno e noi l'abbiamo aperta appunto come come ostello e come guest house insieme a un nostro partner islandese il quale è andato a scuola lì è un po per noi anche perché ci abbiamo sempre lavorato anche nei nostri precedenti lavori abbiamo lavorato come dire turistiche per molti anni e quindi abbiamo deciso di cercare di salvarlo un po' dall'abbandono e di prenderlo in mano in estate adesso hai beh questo è l'anno di più afflusso turistico è a parità forse 2018 dicevano a parità pre pandemia quindi è sempre intenso in estate poi adesso sta arrivando l'inverno quindi vabbè a livello climatico è tutto un altro impegno però benissimo chiudiamo brevissimo siamo sopravvissuti e so che voi comunque vivete anche molto fortemente la vostra friulanità e che avete creato un fogolare un fogolar locale sì 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 è stata un'idea di davide in realtà abbiamo deciso che deve essere una buona idea appunto creare un fogolare in islanda perché non ce n'è così da dare un attimo una base anche a chi viene dalle nostre parti in italia e soprattutto l'idea che ci interessava è quella di friulani storicamente sono gente che ha emigrato in tutto il mondo e ha fondato famiglie e comunità un po' in tutto il mondo e volevamo un po' riprendere il fatto delle seconde terze e quarte generazioni dai tempi dell'emigrazione friulana che si ritrovano a essere tra virgolette friulani di seconda terza generazione in giro per il mondo avete qualche attività qualche cosa in prossima venire di cui vorreste parlarci il nostro partner sai fa tutti questi progetti europei no noi siamo venuti inizialmente in islanda per questo è una grande organizzazione sì in particolare fa un progetto europei qua e anche in altri posti insomma però niente adesso ci stiamo un po concentrando noi praticamente dobbiamo comunque ci assumiamo quattro persone vogliamo fare una rotazione di quattro persone ogni due mesi che stiamo con noi per la stagione estiva e quindi abbiamo inoltrato tutti i fogolar del del mondo in sintesi chiunque voglia partecipare e il prossimo anno facciamo magari un rappresentante tra virgolette per stato li mettiamo assieme abbiamo vitto alloggio robe simili adesso dobbiamo combinare un po le case le robe e così ci passiamo tutta la stagione magari con gente sai una rotazione di persone di questo tipo qua no si generano tipo un microcosmo un microcosmo di friulani o ex friulani in islanda poi dall'altro lato l'attività comunque va molto bene in estate dura solitamente sei mesi e alla fine avendo il posto come base che ce l'abbiamo tipo ancora per forse dieci anni comunque tanto tempo insomma sarebbe bello utilizzarlo appunto per avere una base di mobilità internazionale sai che ti offri comunque un contratto di lavoro sai queste cose qua perché in ambito di volontariato certo ci sta però deve avere anche delle basi economiche insomma di un certo tipo quindi magari un po più aperto a tutti ottimo il nostro tempo è chiuso ma vi chiedo se potete lasciare dei vostri contatti sia per chi volesse sapere insomma per le cose del fogolar sia perché vi volesse contattarvi per il vostro ostello e guest house certo allora noi siamo sempre online siamo sempre pronti possiamo contattarvi tutti quelli che vogliono contattarci prego contattateci abbiamo un sito internet che si chiama dell'ostello che si chiama www.paradisecavehostel.com e dove trovano anche la nostra mail che è theparadisecave.com e quello è il contatto a cui rispondiamo sempre in tempo grazie mille e non mi resta che salutarvi e dire ancora una volta qui a Europa stavolta molto dal nord a voi friuli grazie mille ciao